Dopo la notizia della chiusura del ponte in cemento armato che collega i comuni di Rovetta e Son Gavazzo dovuta all'ammaloramento di una delle due spalle di appoggio dell'infrastruttura abbiamo fatto il punto della situazione con il primo cittadino di Rovetta, Mauro Marinoni. Alcune tragedie che conosciamo benissimo tutti, che hanno interessato ponti nella nostra nazione hanno posto l'accento sulla necessità di effettuare ovviamente dei controlli e così anche noi abbiamo voluto fare, abbiamo chiesto allo Stato di darci i fondi necessari per fare uno studio attento di staticità sul ponte e lo studio che ci è stato consegnato un mesetto fa ha evidenziato che la struttura in sé in cemento armato è una struttura assolutamente solida che porta a dei carichi ancora molto importanti, però sono state evidenziate delle criticità fra queste criticità c'era appunto l'evidenziazione di crepe nella spalla diciamo che verso il comune di Son Gavazzo porta parte della campata finale del ponte Per entrambi i comuni la scelta di proseguire con i lavori immediati per garantire l'apertura in tempi brevi Non è una cosa diciamo irrisolvibile, certamente per una ragione di sicurezza in questo momento abbiamo dovuto chiudere il ponte e confidiamo però che lo possiamo riaprire in tempi abbastanza solleciti, ci vorrà forse un mesetto, due mesetti però non dovrà essere un tempo molto lungo, il sacrificio c'è in questo momento devono portare pazienza i cittadini ma è un discorso di sicurezza non possiamo trascurare questi aspetti, è inutile che poi dopo andiamo a piangere quando è troppo tardi Il ponte resta comunque aperto al transito pedonale